amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 2 buongiorno a tutti e mattina presto siamo qui in sponda sud faccio questo breve video per farvi vedere i milioni di bassettini appena nati guardate che roba il lago è pieno murato di bassettini appena nati hanno già finito la frega adesso sono già nati bass c'è la femmina lì che guardate sono molto pratico però lì che li protegge e ce ne sono milioni ma milioni veramente lago è pieno tutto intorno ci sono micro bass e poi ci sono anche i bassi più grossi che che girano solo sotto arriva allora il lago è perfetto stanno rivenendo su tutti gli erba e gli erbai meravigliosi che sono venuti su anche l'anno scorso quindi si può pescare in mezzo agli erbai con dei gigoni grossi oppure la sera a galla con delle rane o quando lei si galleggianti sopra l'erba è uno spettacolo vengono da sotto boom e ti e ti mangiano l'esca da sotto le alghe bellissimo poi adesso stanno arrivando anche le libellule quindi anche la libellula è un'esca eccezionale li vedi la sera a cacciare sulle libellule ecco la libellulona che sta arrivando li vedi la sera a cacciare la mattina presto a cacciare sulle libellule è veramente una cosa eccezionale vengono saltano un mezzo metro fuori dall'acqua per prenderle sono cattivissimi bene ragazzi vi ricordo che a metà mese verso metà fine mese faremo una bellissima emissione di bass e striped bass anche se non ce n'è bisogno ma ne mettiamo dei nuovi perché vogliamo farne prendere proprio a tutti anche ai meno esperti quindi ne buttiamo giù degli altri pare che siano anche belli la roba da chilo quindi butteremo giù un centinaio di chili tra bass e striped bass e poi faremo una giornata evento in collaborazione con il grande lino di pro fish e con grigliatone qui sul lago adesso vi diremo le date vi diremo i giorni ma faremo come al solito una roba spaventosa in pieno stile big fish guarda lì sotto che basche ci sono guardate che roba una meraviglia poi non so se notate la finestra ci sono anche lininfe in fiore il livello è molto alto il livello è molto alto va bene ragazzi dal big 2 è tutto noi vi aspettiamo vi ringraziamo e ci vediamo qua tutti i giorni dalle otto al tramonto si può pescare solo spinning e moscano kill guardate che bel bassettone che arriva e aspettiamo qui al big 2 il lago con i produttori più spaventoso di bologna attraverso il lago con i produttori più spaventoso di bologna il lago con i produttori più spaventoso di bologna